Claudio Pea, buonasera Claudio Pea e il grandissimo immenso Dino Zoff, buonasera Dino Buonasera, buonasera Ma su che cosa? No, 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 stavamo semplicemente introducendo voi ospiti naturalmente con voi vogliamo parlare esclusivamente di calcio perché quello che riguarda lo scontro tra Gattuso, Simone Inzaghi e i suoi collaboratori resta nel terreno di gioco, ne hanno parlato abbondantemente anche loro ai microfoni in sala stampa ma chiederei subito a Dino Zoff se questo campionato che è stato archiviato si può ricordare, chiaramente al di là del discorso coronavirus, come il campionato di Maurizio Sarri No, 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 non credo che ci sia campionati sarà il campionato della Juventus che ha vinto il campionato non credo di altri ci siano i campionati ma anche perché è così anomalo che è venuta fuori in qualche modo direi che non è il campionato di uno capisco se l'avesse vinto il Sassuolo potrebbe dire che era il campionato dell'allenatore del Sassuolo di Roberto De Zerbi, sì insomma la Juventus ha vinto tutto Claudio, Claudio Pea, hai una domanda subito al pronti via per il tuo amico Dino Zoff in ricordo anche di Italia 82 dove tu eri inviato per il giorno, no? Eh sì, abbiamo passato dei momenti meravigliosi lui è il simbolo di quel titolo, i miei ricordi sono passati 38 anni e credo che sia uno dei ricordi più belli della mia vita anche miei soprattutto suoi devo dire che per me lui è sempre stato il portiere con la P maiuscola perché è il portiere più grande che abbia mai visto in tutta la mia carriera giornalistica e soprattutto credo che in aggiunta a questo si è sempre comportato da grandissimo uomo e questo gli fa onore quindi lo ringrazio di avermi dato la possibilità di conoscerlo in un episodio particolare della mia vita Claudio io ricordo che in tanti hanno visto Claudio Pea come colui che ha fatto Scusa Prego Chiamatemi più spesso a sentire queste vere parole Se le fa piacere perché no? Beh Dino io credo che dopo il tuo gesto da signore che hai avuto nei confronti di Berlusconi per me hai guadagnato 300.000 punti cioè non l'ha fatto nessun altro nella vita e quindi per me eri un vito Sai che sono punti che si rimettono poi, no? È vero No, ma no, ma no Hai finito alla grande Hai finito alla grande Sapendo dire di no a un potente questa è una delle cose più belle che può fare un uomo ecco per questo dico che tu sei una grande persona Claudio vogliamo ricordare Per sapere da te cosa fai So che so che come noi vecchietti chiamiamoci così diventiamo matti un po' tutti per il gosto credo che anche tu fossi diventato matto per il gosto No, matto no perché mi faceva incavolare molto Tra i tre colpi buoni e il quarto butti in vacca tutto Quindi ti dico che l'ho fatto sempre ma non per rilasciarmi Dino vogliamo ricordare quell'episodio dell'articolo di Claudio Pea durante il mondiale in Spagna nell'82, 1982 Claudio spesso viene ricordato e intervistato anche da Sky, Rai Solo per questo No, non solo per questo però vogliamo ricordare Claudio e poi vediamo anche i ricordi di Dino Zoff in merito Il mio ricordo è questo che erano le 10 di sera e allora ovviamente non c'erano i telefonini e mi chiamarono dalla Olt a Milano dicendo che avevano bisogno ancora di 20 righe e io dettagli a braccio in una cabina telefonica 20 righe la storia che poi si è avverata che se la squadra avesse passato il primo turno mogli e fidanzate sarebbero andate potuto seguire i loro mariti o compagni a Barcellona questa era la notizia io ne parlai in camera proprio con Paolo Rossi il quale mi disse no, dice Simonetta che poi io conoscevo anche molto bene Simonetta è incinta, non può venire Simonetta era la moglie di Paolo Rossi dice però io mi posso consolare con la mia cabrigna ora io l'ho scritta così male, male con la vanga non con la penna però da questo errore di battuta ma era soltanto una battuta di Paolo Rossi è scoppiato è scoppiato però poi può confermartelo Dino io non ho mai avuto Rossi non l'ha mai confermato Paolo e neanche Cabrini che con loro ho sempre avuto un ottimo rapporto quindi il silenzio stampa non partì da questo articolo che ha fatto traboccare il bar difatti io da allora resto sempre molto arrabbiato perché poi con Berzotto abbiamo fatto pace ai mondiali successivi quando mi sono rotto la gamba e lui è venuto a assistermi nel mio letto di dolore diciamo così e io ce l'ho e ce l'ho ancora molto con la mia categoria di giornalisti e ne hanno approfittato di un sacco di storie di brutte storie che avevano raccontato partendo dallo stesso presidente Sordillo che era contrario a Berzotto Claudio vediamo Dino Zoffo cosa ricorda di quei momenti subito dopo quelli successivi insomma a questo articolo ma guarda questo articolo ma c'erano tante altre cose perché si dicevano poi poi cosa che ci siamo rifiutati di andare a a sponsorizzare un prodotto a Barcellona perché non si regalavano un orologio per le mogli ma sono cose cose fuori dal mondo insomma non è se si poteva andare e poi le cose erano insomma messe non tanto bene io ho dissi ma è inutile che stiamo qui a giustificare sempre le nostre prestazioni ormai vediamo cosa siamo capaci di fare in campo e poi ne parliamo insomma che poi che poi Dino ti è toccato tu non hai mai fatto silenzio perché hai parlato tu per tutti no? sì 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 no 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 perché insomma no è vero di una tranquillità olimpica quindi no no perché ho passato dei momenti anche perché dopo la partita pronto? abbiamo perso Dino Zoff abbiamo perso Dino Zoff no non abbiamo mai perso Dino Zoff no no abbiamo perso il senso radiofonicamente Claudio aspetta riproviamo riproviamo a richiamarlo Claudio nel frattempo ti invito comunque mi ha dato mi ha dato soddisfazione ti ha dato soddisfazione ragione no perché poi in tanti ne hanno approfittato in questi anni no? sì ne hanno molto approfittato questo è purtroppo la nostra categoria abbiamo abbiamo recuperato come faceva lui con i palloni all'incrocio dei pali Dino Zoff Dino proiettiamoci a questo Barcellona-Napoli anche con Claudio Pea qual è il pensiero di Dino Zoff in vista di un match così importante e soprattutto chi farebbe giocare tra Ospina e Meret guarda io non non voglio entrare anche perché non li vedo o li vedo la domenica chi gioca uno o l'altro quindi credo che Gattuso sappia chi scegliere sono due ottimi portieri quindi garantire hanno tutte e due ecco certo la partita siamo al Barcellona è sempre Barcellona anche se è passato dei momenti ha perso il campionato eccetera però credo che il Napoli non abbia niente da perdere se vogliamo assolutamente quindi se la può giocare non dico tranquillamente però insomma senza questa pressione eccetera quindi se la può giocare perché il calcio si comincia tutti dal 0-0 potrebbe essere un po' come Brasile Italia del 1982 dove il Brasile partiva con il favore del pronostico poi l'Italia fece qualcosa di straordinario ma il favore no adesso non confondiamo il favore del pronostico è un conto però noi insomma eravamo una squadra devo anche un po' provocare o no perché ho visto Messi Suarez Griezmann insomma viene un po' paura no 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 non credo Griezmann non mi sembra Messi ecco no no noi in Spagna avevamo una rapidità di azione straordinaria abbiamo fatto tutti i gol su azione quindi direi che eravamo sottovalutati sono assolutamente d'accordo Claudio invece tu cosa pensi di Barcellona-Napoli? Ma te l'ho sempre detto come finito il campionato quest'anno al Napoli si è capito chiaramente che a un certo punto Gattuso ha puntato tutto su questa partita però ha ragione Dino probabilmente Napoli a Napoli non è vietato sognare siccome Napoli è una città in cui spesso i sogni si realizzano io penso che sia giusto legittimo che il Napoli i sogni di poter battere Barcellona Claudio il tuo messaggio per Dino Zoff il mio messaggio per Dino Zoff è che di giocare un po' meglio a gol quello è difficile guarda ti ho provato mannaccia io credo che la cosa a cui Zoff tenga di più oltre a quel grande titolo mondiale quella partita europeo non dimentichiamo anche quello europeo che in pochi ricordiamo ma perché sono passati ancora più anni Zoff passò la Juventus il giorno in cui sono nati i miei gemelli quindi per me è un ricordo meraviglioso la Juve ci ha scippato Dino Zoff caro Claudio a lui auguro di essere sempre Dino Zoff grande grande Claudio Pea grazie Claudio per essere stato con noi grazie Claudio guarda hai detto delle parole mi ha fatto piacere ho finito di cenare ma insomma e quindi ho passato una brutta annata ero più di là che di qua e adesso che sono tornato di qua forse rivaluto rivaluto le persone che mi hanno fatto vivere una bella vita Claudio allora organizziamo una cena con Dino Zoff va bene ma magari magari in Friuli perché anche mio nonno era friulano e quindi c'è qualcosa di dove io ringrazio io ringrazio Claudio Pea e Dino Zoff per essere stati con noi grazie di cuore ad entrambi buon proseguimento di serata grazie a voi io con Napoli sono sempre legato quindi chiamate pure grazie Dino grazie grazie mille e allora e ricordati però che sei il più grande giuventino no 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 è di base napoletano è di base napoletano ebbè qualcosa ha vinto di più eh lo so lo so va bene